Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Venerdì 21 luglio, buongiorno dalla redazione di TVI Molise, rassegna stampa che inizia tornando a parlare di San Nicandro, del convento di San Nicandro, perché ieri una delegazione di Venafro guidata dal primo cittadino, Alfredo Ricci, ha incontrato a Foggia il padre provinciale dei Cappuccini per cercare di scongiurare la chiusura del convento. Sentiamo com'è andata in questo servizio di Antonia Cristinzio. Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro tenuto a Foggia dalla delegazione di Venafro guidata dal sindaco Ricci con il padre provinciale di Cappuccini, frate Francesco Di Leo. Tema dell'incontro ovviamente è la chiusura del convento di San Nicandro, alla quale i Venafrani non vogliono rassegnarsi e che ha spinto i cittadini fedeli amministratori ad unirsi nel tentativo di scongiurare che la pluricentenaria presenza dei Cappuccini nel convento venga interrotta. Presenti per la città insieme al primo cittadino il presidente del Consiglio Comunale, Dario Ottaviano, il vice sindaco Marco Valvona, il consigliere di minoranza Michele Pontone, il vicario foraneo Don Salvatore Rinaldi e una rappresentanza di cittadini e fedeli nelle persone di Vincenzina Scarabbeo per il circolo religioso socioculturale San Nicandro, Andrea D'Appollonio, Ernesto D'Appollonio, Raffaele Siano. La delegazione ha elencato tutte le problematiche derivanti dall'eventuale chiusura della basilica e del convento di San Nicandro e sono state fatte presenti le ragioni legate alla storicità della presenza dei Cappuccini e al cammino pluricentenario della fede e della venerazione verso i santi martiri da parte dei venafrani e di tanti devoti anche residenti in altre città e all'estero. Tutto vano, il numero di frati disponibili in provincia è troppo ridotto dalla carenza di vocazioni degli ultimi tempi, ha detto il padre provinciale, che ha comunque assicurato che con il vescovo di Sernia-Venafro è in corso un costante confronto per trovare una pacifica soluzione. Il convento e la basilica saranno amministrati dal rettore Frantonio Losapio e dal vice direttore Fra Giossi Fernandes e la basilica sarà aperta tutte le mattine e tutti i pomeriggi con la presenza di un frate. E ora come di consueto diamo uno sguardo ai quotidiani online partendo dal quotidiano del Molise, partiamo appunto da Isernia, una brutta notizia che è arrivata ieri sera anche nella nostra redazione, cade dalla scala mentre pota i rami di un albero, non ce l'ha fatta l'82enne pensionato di Isernia, vittima appunto di questo incidente. Poi spazio alla politica, aumento delle tasse e del bollo auto all'esame della prima riunione della giunta regionale, ovviamente diciamo un primo banco di prova per la nuova giunta targata Roberti e poi a confine tra Molise e Campania auto contro moto sessantenne trasportato in elicottero a Napoli e in gravi condizioni. E poi infine a Yelzi svelata la 218esima festa del grano, saranno 45 i carri che prenderanno parte a questa manifestazione storica e poi ci spostiamo su Molise oggi, anche Molise oggi dà spazio alla politica regionale, aumento tasse e bollo auto, prime decisioni per il neo presidente Roberti. Dopo i quotidiani online ci spostiamo sui cartacei partendo da Nuovo Molise che apre sempre con Roberti. Come certi mariti Roberti è l'ultimo a saperlo, come sempre il governo del Molise si decide altrove, per l'assessore leghista esterno la DEM Fanelli attacca, ci costa 12 mila euro in più la decisione dei nuovi assessori, non spetta a lui, ma a Roma questo è il punto di vista di Nuovo Molise. Poi lo IACP, bacchetta gravina, il caso di Via Marche a Campobasso e poi esportano tutti tranne il Molise, quindi un focus sull'economia, il valore delle esportazioni extra Unione Europea si è ridotto del 25,8%, l'unica regione in cui il commercio con l'estero è in perdita. E poi lo avete visto nel servizio di questa mattina di Antonia Cristinzio, Missione Foggiana per il convento di Venafro e poi questa iniziativa di Molise Acque in rete e infine spazio alla musica, la macchia della grande musica, il Blues Festival Isernino che inizia oggi e si terrà sia oggi che domani. Dopo Nuovo Molise ci spostiamo su primo piano Molise, anche qui spazio alla politica regionale. Giunta, Lotito fa saltare i piani di Fratelli d'Italia, il senatore ribadisce fiducia e stima a Roberti. Lavoriamo insieme per il bene del Molise, ma tre caselle al partito della Meloni sono troppe, il coordinatore azzurro chiede pari dignità agli alleati, gli eletti di Forza Italia non vanno mortificati e poi il punto con questo editoriale del direttore Luca Colella, Asrem, i nodi vengono al pettine e poi accolto il ricorso, giustizia è fatta anche per Paola Matteo, questo ovviamente è un argomento collegato alla surroga della vecchia legislatura regionale. L'emergenza a caldo record, Campobasso, Bollino Rosso oppure domani e poi escluso dai contributi a GEA va in procura. Colpa del Comune, l'allevatore di Cerro denuncia o i requisiti per ottenere la fida Pascolo, ma mi viene negata, ad altri non irregola, viene concessa, anche qui Venafro, Convento, Vertice, Affoggia, Ricci guida la delegazione, il padre provinciale, illustra la riorganizzazione, restano le perplessità e poi Campobasso, via Marche, lo IACP, sbugiarda, gravina, non ci occupiamo di urbanizzazione. Anche qui spazio alla cronaca di Isernia, troppo gravi i traumi, l'82enne è caduto da un muro di 4 metri, non ce l'ha fatta e poi Campobasso, fedeli commossi per l'ultimo saluto a Dompino Romano, prete degli ultimi. E dopo la prima pagina entriamo all'interno di primo piano Molise, con la pagina dedicata alla politica, discontinuità, gravina, pungola, Roberti, narrazione inverosimile. Il neoletto consigliere di opposizione mette nel mirino i primi passi del Presidente. Come immaginato, tutto si demanda, a Roma si affidano alla filiera istituzionale per risolvere i mali che lo stesso centrodestra ha creato governando. E ancora politica, Lotito smorza l'entusiasmo di Fratelli d'Italia e chiede pari dignità. Il coordinatore di Forza Italia difende le ragioni dei suoi eletti. L'invito agli alleati, sediamoci e discutiamo, Roberti avrebbe vinto pure senza il partito della Premier. E poi pagina di Campobasso, tregua lontana, un'altra settimana di valori record, intanto oggi e domani ancora bollino rosso, il periodo tra il primo e il 15 luglio e il più caldo di sempre in Molise. Questo dato sul clima molto interessante. E poi la pagina di Sernia di primo piano Molise, da tre anni senza Pascolo, l'odissea di un allevatore diventa un caso giudiziario. L'accesso ai terreni è prioritario per gli imprenditori residenti e parecchi assegnatari provengono anche dai paesi limitrofi. Tale procedura consente di poter richiedere i contributi a GEA, l'esposto querela presentato da Marco Izzi, proprietario di 150 capi tra asini e bovini, che chiede chiarezza. E poi Venafro, chiusura del convento, una delegazione guidata da Ricci in missione a Foggia. Ieri l'incontro con Fradileo, che ha assicurato funzioni garantite, basilica aperta mattina e pomeriggio. E messa celebrata ogni domenica. Chiudiamo primo piano Molise con la pagina di Termoli, spazio alla cronaca. Tenta di farsi investire, aggredisce una donna al volante. Arrestato 34enne e poi furti sotto l'ombrellone e truffe agli anziani. Prosegue l'estate caldissima con episodi delinquenziali, topi da spiagge e nazione, novantenne derubata da furfanti. E ora, dopo i giornali locali, ci spostiamo sui quotidiani nazionali, il PN, con il Corriere della Sera, che apre con il PNRR, che si sblocca, intesa con l'Europa sulla terza arata, ma con il rinvio su 500 milioni per gli universitari. Obiettivo 35 miliardi entro fine anno. Le modifiche al piano e poi questa bellissima foto. Zaki, gioia e libertà. Sarò presto a Bologna, Egitto. Intervista al ricercatore, graziato da Al-Sisi. E dopo il Corriere della Sera, ci spostiamo sulla Repubblica, altra apertura per la Repubblica. Emergenza caldo sul lavoro, la Ministra Calderone, smart working emergenziale, i sindacati replicano, cassa integrazione e blocco attività oltre 33 gradi grandinate disastrose in Veneto, con 110 ferite e gravi danni. Rifkin, il Mediterraneo, rischia effetti catastrofici e questo l'impatto dei cambiamenti climatici PNRR, terza rata sbloccata, ma slittano 500 milioni per alloggi studenti. E poi Repubblica che dà uno sguardo anche ai viaggi, i prezzi alle stelle dell'estate in volo, rincari dei biglietti aerei con aumenti tra il 20% e il 50%. Quindi viaggiare questa estate ci costerà di più. E poi il fatto quotidiano, la destra degli impuniti in guerra con l'Europa, abuso d'ufficio, l'Unione Europea Boccia Nordio e dà ragione al collega Zarra Leghista, Bruxelles, così sarà più difficile la lotta alle corruzioni, CSM, ostruzionismo della Liga contro il Gup di Salvini alla CEDU. Dopo il fatto quotidiano ci spostiamo sul quotidiano economico, il sole, 24 ore, PNRR, ok, contaglio, alla terza rata i fondi del recovery, accordo Unione Europea, 519 milioni, slittano la quarta rata, ma totale annuo invariato, rimodulato l'obiettivo sugli alloggi universitari, allarme SEP sui ritardi. E poi spazio anche al fisco, il governo, nessun prelievo forzoso, dai conti correnti, Leo, possibili correttivi, ma non sono previsti pignoramenti al buio. E dopo il sole 24 ore ci spostiamo sul mattino di Napoli, anche qui spazio al PNRR, via libera la terza rata, accordo con l'Unione Europea, governo soddisfatto, arriveranno 35 miliardi entro la fine dell'anno, slittano i 500 milioni per le residenze universitarie, revisione anche dell'obiettivo asili. E poi in prima pagina del mattino, morte del giornalista Andrea Purgatori, parenti denunciano sbagliate le cure, aperta un'inchiesta. E poi bimba ferita in piazza, stop della famiglia, al risarcimento Beffa, Sant'Anastasia, l'autore del ride con il mitra davanti alla gelateria, aveva offerto 5 mila euro. E poi messina denaro, tutti i file segreti proposti a Corona, arrestato, carabiniere. Questa era la prima del mattino di Napoli, nel frattempo noi andiamo sulla stampa, sulla prima della stampa, Crosetto PNRR, le imprese diano garanzie allo Stato, via libera dell'Unione Europea, la terza rata. Dura replica di Bruxelles sull'abuso d'ufficio, parla il ministro della difesa sulla giustizia, sto con Nordio, mi fido delle sue idee. E poi anche qui una foto notizia su Zaki, grazie Italia, lo studente egiziano, domani a Bologna. E poi giustizia per Assange, l'appello di 100 giuristi italiani. E dopo la stampa ci spostiamo sul quotidiano dei Vescovi a venire, pandemia, dipendenze, cresce il consumo di droghe al 28% tra i teenagers. Un giovane su due da 18 a 24 anni abusa di alcol, ha aumentato anche il ricorso agli psicofarmaci all'11%, il gioco d'azzardo. E c'è l'allarme per le donne, la relazione al Parlamento dipinge un quadro allarmante, aggiornato al 2022. Le tendenze sono di incremento delle condotte a rischio. E dopo a venire, vediamo che cosa c'è in prima del giornale. Gufi in crisi di nervi, sinistra anti-italiana, PNRR arriva la terza rata da 18 miliardi, con i complimenti di Gentiloni, Standard e Pool promuove i nostri conti. Nessuna recessione, prospettive migliori. Zaki ringrazia il governo Meloni, che nega ogni baratto col caso Reggeni. E poi questa fotonotizia dedicata alle foto ritrovate dalla campagna di Russia, il diario degli Alpini. Quindi spazio anche alla storia su il giornale. Il manifesto, le rate ignoranti per sbloccare la terza rata del PNR. Il governo deve ammettere quello che era già evidente. L'obiettivo di 7.500 nuovi posti letto per gli studenti non è stato raggiunto. Spostati 500 milioni sulla quarta rata. Il segnale dell'Unione Europea. Non si può cambiare il piano a piacimento. E poi il caldo benvenuto di Xi a Kissinger. La visita cinese dell'ex segretario di Stato. Ultracentenario. E poi spazio anche al conflitto russo-ucraino. Bombe russe per affamare Kiev. Terza notte di attacchi ad Odessa. E dopo il manifesto andiamo sul libero. Zaki l'ingrato rifiuta il volo di Stato. L'egiziano ringrazia tutti ma chiede di partire con un aereo di linea. Non vuole stringere la mano alla Meloni. T'ho arrivati i soldi del PNRR. Sbloccati quasi tutti gli aiuti dall'Europa. Si sgonfia l'ennesima inutile e polemica. Ecco la terza rata. Manca una parte che ci daranno. E anche qui la morte di Purgatori finisce in procura. La famiglia denuncia cure sbagliate. E chiudiamo questa rassegna stampa come sempre con le notizie sportive della Gazzetta dello Sport. Spalletti, voglia matta. Ma quale anno sabbatico? Nessuno però mi ha mai cercato. Il ritorno in panchina si vedrà, vi raccontiamo, la strana estate di Luciano. E poi il calciomercato Juve-Artura-Firenze fa partire la missione. Che sì, Zaccaria e McKennie, gli altri da piazzare. Milan, Laboratorio Pioli, Muscoli e 433 Pulisic. C'è già show, viaggio nel cantiere rosso-nero. E poi invece l'Inter, Turam, io faccio il Lukaku. Il francese è un'eredità pesante. Sboccia la nuova coppia con Lautaro. Gli ex tifosi non perdoniamo Lukaku. Con la Gazzetta dello Sport si chiude la nostra rassegna stampa. Ora vi lascio al meteo e all'oroscopo e vi do appuntamento all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Vi auguro una buona giornata. Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al meteo di TV Molise. Per oggi venerdì 21 luglio si prospetta una giornata all'insegna del sole e del gran caldo con elevati tassi di umidità. Tuttavia le temperature si presenteranno meno elevate rispetto ai giorni scorsi, con un decremento sensibile fino a oltre 5 gradi. Venti dei quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 20, massima 35. Esernia minima 21, massima 35. Termoli minima 26, massima 39. Venafro minima 22, massima 36. Previsioni per domani sabato 22 luglio. Per la giornata di domani il trend sembra confermare una minore ingerenza dell'anticiclone africano, che permetterà ai termometri di attestarsi su valori termici al di sopra della media ma più comuni ad ondate di caldo delle stagioni passate. Venti dei quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 20, massima 35. Esernia minima 21, massima 34. Termoli minima 27, massima 35. Venafro minima 22, massima 36. Benvenuti all'oroscopo di oggi, venerdì 21 luglio. Ariete, questa giornata è ideale per vivere al massimo i sentimenti. Per quanto riguarda la sfera lavorativa siete abbastanza stressati, ma presto arriverà anche il vostro momento di relax. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Toro, le stelle sono dalla vostra parte e con la luna nel segno farete scintille in amore. Sul lavoro tutto procede bene anche se potreste applicarvi un po' di più. Gemelli, se avete fatto un incontro interessante negli ultimi giorni allora approfonditelo. Sul lavoro gli impegni sono tanti, ma presto arriverà un periodo più scarico in cui rilassarsi. Presto vi toglierete tante soddisfazioni. Cancro, la giornata non è ideale per le questioni di cuore. Potrebbero esserci litigi, quindi attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro ci sono piccoli ostacoli da affrontare. Magari può essere il momento giusto per chiarire con un collega e trovare una soluzione ai problemi di lungo corso. Leone, il cielo parla d'amore, quindi vi allibera i sentimenti. Sul lavoro siete stimati da tutti e dopo tutti i sacrifici godetevi questo momento di successo. Prendetevi anche un po' di meritata pausa e relax, ne avete bisogno. Vergine, siete un po' in crisi in amore. Dovreste cercare di chiarire i vostri sentimenti. Sul lavoro meglio tenere separate la vita privata da quella professionale. Nei prossimi giorni incontri positivi all'orizzonte. Bilancia, ultimamente vi sentite un po' limitati dalla vostra relazione. Sul lavoro invece siete soddisfatti, ma voi avete sempre bisogno di fare qualcosa di nuovo. Solo così sarete soddisfatti dal vostro lavoro. Scorpione, la luna è nel vostro segno, quindi approfittate di questo transito positivo per aprirvi in amore. Sul lavoro la routine è sempre la stessa, ma presto vi prenderete un po' di pausa dagli impegni. Sagittario, non siete del tutto soddisfatti dalla vostra relazione. Cercate di schiarirvi le idee. Sul lavoro arriveranno promozioni dopo il periodo estivo. Avete dato il massimo e presto verrete premiati. Godetevi anche un po' di meritato riposo. Capricorno, c'è un po' di confusione nella vostra vita da tutti i punti di vista. Forse in amore sarebbe meglio stare da soli per un po' e sul lavoro cercate di capire cosa volete davvero. Forse dovreste seriamente guardarvi intorno e lanciarvi nuove avventure. Acquario, siete in dubbio in amore, ma presto capirete cosa fare. Sul lavoro vi state impegnando, ma volete altro. Non è infatti quello che sognavate di fare. Guardatevi intorno, ma per il momento tenetevi stretto ciò che avete. Pesci, voi siete degli inguaribili romantici. È ciò che desiderate di più nella vita e l'amore che adesso è al top. Sul lavoro siete molto impegnati, ma bisogna stringere i denti. Per fortuna è prevista una pausa breve e potrete ricaricare le pile e fare un po' di vacanze. Grazie a tutti.